27 aprile in Consiglio Comunale, d'ottobre l'inizio dell'abbattimento, stavolta davvero il ferro di cavallo ai giorni contati. Stiamo parlando di un'operazione storica che nessuno avrebbe mai potuto neanche immaginare. Invece noi abbiamo preso il toro per le corna, quella è un'operazione che pensiamo sia indispensabile per la nostra città. Ma vogliamo che il ferro di cavallo, che è un simbolo negativo di Pescara, che è assurdo anche agli onori della cronaca peggiore, venga abbattuto e quello stiamo facendo. Stiamo operando perché questo avvenga, stiamo liberando gli appartamenti, assegnando altri alloggi a coloro che hanno diritto e sfrattando e mettendo fuori invece le persone che non hanno avuto diritto. Il passaggio in Consiglio è necessario perché si tratta di una vera variazione urbanistica. In meglio, ovviamente, il programma di abbattimento dell'immobile di Via Tavo avrà una netta accelerazione. Saranno realizzati poi 56 appartamenti, in luogo degli attuali 120, nel contesto della più ampia rigenerazione del quartiere Rancitelli, un'azione di riqualificazione urbana su cui l'amministrazione Masci punta in modo particolare. I tempi sono tempi amministrativi che noi stiamo restringendo in maniera incredibile, però l'obiettivo sono certo che lo raggiungeremo e al posto di quell'edificio, che è un detrattore ambientale incredibile per Pescara, dove succedono e sono successe cose veramente inaccettabili, verrà abbattuto e al suo posto sorgerà un edificio più piccolo che avrà delle qualità architettoniche particolari, una piazza, degli uffici pubblici, degli spazi finalmente da vivere in maniera assolutamente serena per gli abitanti che sono in quella zona e che meritano tutte le attenzioni possibili. Sull'intero comprensorio sud-ovest della città e in particolare proprio nel rione Rancitelli, sono infatti diversi gli interventi previsti oltre all'abbattimento del ferro di cavallo. Stiamo completando le strade pendolo che erano attese da 20 anni circa, poi abbatteremo altri tre edifici che sono in via Lago di Borgiano e riqualificheremo tutta la zona con un intervento complessivo di diversi milioni di euro che farà sì che Rancitelli possa rinascere e diventi un simbolo di rinascita della nostra città. E a proposito di via Lago di Borgiano, la Terpescara ha giudicato ad una ditta di gubbio i lavori di demolizione dei tre palazzi ai civici 14, 18, 22, che ospitavano 84 alloggi popolari, a rischio crollo e sgommerati nel luglio 2017. E a proposito di via Lago di Borgiano, la Terpescara ha giudicato ad una ditta di gubbio